vediamo ora molto rapidamente quali sono le nuove azioni inserite all'interno di 3ds max 2014 notiamo che alcune di esse hanno un asterisco a lato oltre al prefisso m ma come già detto all'inizio le m particles non sono di nostro interesse quindi possiamo lasciare perdere tutte le action con tale prefisso concentriamoci invece su quelle con l'asterisco notiamo che abbiamo a disposizione blur wind è una forza a vento che consente però un maggior controllo senza necessariamente andare a creare l'operatore force per collegare lo space warp al sistema camera curling utile per ridurre le geometrie caricate in viewport e o al momento del render non considerando le particles non visibili dalla camera camera im blur questo operatore aiuta a migliorare il motion blur direttamente in fase di rendering random walk genera un percorso casuale delle particles spin limit controlla il massimo della rotazione limitandola ad un range lo stop aiuta a bloccare le particles ad esempio su un oggetto display script è uno strumento di diagnostica che consente di visualizzare le varie informazioni all'interno della viewport solitamente il suo utilizzo avviene con il tools avanzato data operator che fa parte delle m particles tra i test troviamo copy out crea una copia delle particles su ds e le trasmette ad un secondario event è una versione differente dello spawn stop gradually permette di rallentare e fermare gradualmente le particles vi ricordo che tali tools per chi non avesse la versione 2014 o superiore può tranquillamente attivarli scaricando le versioni gratuite dei freebies disponibili sul sito della orbaz technology Grazie mille